benvenuti in questa nuova live di dipenscienza io sono zap e oggi una puntata fondamentale puntata fondamentale perché parleremo di covid o meglio di sars cov 2 vi spiegherò poi qual è la differenza e quando ci siete scrivetemi in chat così so di non parlare da solo e chiederei un altro grande favore si stanno già lamentando sul gruppo telegram che faccio le live a dei orari improponibili lo so purtroppo devo sfruttare la silenziosità di casa a quest'ora e poi nel pomeriggio e soprattutto domani perché poi le puntate di dipenscienza sarebbero in realtà il martedì non ci sarò quindi devo un po incastrare queste live con con i miei impegni chiedo scusa a chi chiaramente a quest'ora sta lavorando però sappiate che comunque queste live sono riascoltabili e downloadabili come fossero delle normali puntate quindi potete fruirne poi quando ne avete il tempo oggi dicevo una puntata importante perdo come al solito un paio di minuti per permettere a tutti gli utenti di collegarsi e niente una puntata importante ho aspettato a lungo per diciamo per farla perché voleva avere delle informazioni diciamo abbastanza sicure abbastanza sicure che chiaramente anche al momento non saranno sicure al cento per cento perché ricordiamo che stiamo parlando di una pandemia in corso e quindi è diciamo tutto un divenire quindi le cose che sappiamo oggi potrebbero non essere le stesse di domani nel frattempo io che parlo a caso sto cercando di condividere il link ma chiaramente ho delle difficoltà psicomotorie come dicevo è una pandemia in corso quindi non ci si può aspettare che che si sappia tutto perché se sapessimo tutto chiaramente non saremmo praticamente in lockdown diciamolo allora un secondo permettetemi un attimo di condividere il link così non parlo a vuoto ci sono eh dicevo delle informazioni importanti perché secondo me l'unico modo che abbiamo in questo momento per difenderci dal virus è conoscerlo e conoscerlo in modo abbastanza approfondito chiaramente vi eh salterò i pipponi troppo scientifici che non non vi interessano che non sarebbero neanche utili da questo punto di vista ehm ma ci sono delle cose importanti che voglio dirvi e eh io stesso che comunque sono abbastanza nel campo ciao martina grazie di esserti collegata a quest'ora eh ci sono delle cose che in parte ho scoperto in parte ho capito meglio grazie eh in particolare a una presentazione fatta da una mia professoressa la mia professoressa di microbiologia eh professoressa Gariglio spero che non si offenda nel in questa citazione per questa citazione e eh che non si offenda soprattutto per il fatto che molte delle cose che dirò oggi saranno chiaramente prese da questa conferenza che ho seguito in università eh per correttezza io ho eliminato le pubblicità da questo episodio quindi eh diciamo un po' per essere più trasparente spero di non violare nessun nessun copyright anche se in realtà tutta la conferenza era sostanzialmente un recap di tutti gli studi scientifici che sono emersi ad oggi e ehm quindi parlerò un po' delle spiegazioni che eh lei ci ha fatto e eh citerò anche altri altri studi come per esempio lo studio di Maria Rita Gismondo che è una microbiologa del del sacco di Milano che ha fatto un intervento molto molto interessante quindi voglio riportarvene una parte allora siamo già a quattro minuti quindi per chi si è collegato bene chi non si è collegato ascolterà in seguito noi partiamo partiamo appunto io ho i miei appuntini scrivetemi in chat comunque se ci siete ah e soprattutto eh scrivetemi delle domande se ne avete io ovviamente quando posso vi rispondo se so vi rispondo se non so mi informo e poi vi rispondo in un altro episodio eh quindi se avete delle domande fatele pure non tratteremo chiaramente oggi di politica tratteremo e chiacchiereremo di scienza allora innanzitutto partiamo dal quando perché si è fatta un grande come dire c'è stata grande confusione sul quando questa pandemia è iniziata diciamo la pandemia in sé è quando chiaramente si espande il virus in tutto il mondo senza controllo però il virus in realtà stava circolando già da parecchio tempo eh nel mondo e a nostra insaputa anche in Italia infatti appunto dicevo eh ciao venu perché il 5g ci fa venire il covid dice venu allora oggi siccome ho già fatto una puntata diciamo di sfogo contro i i complottisti oggi eh vorrei evitare questioni del genere eh mi chiedono anche Martina mi chiede come si fanno i tamponi va bene ragazzi vi voi scrivete io eh vi rispondo rispondo tutta la fine se abbiamo tempo se non abbiamo tempo o faccio un'altra live dopo di questa o se no in un prossimo episodio quindi eh Maria Rita Gismondo ehm ci dice che abbiamo già delle prove di presenza di coronavirus che ancora non ehm o meglio di SARS-CoV-2 eh nelle acque reflue di Milano eh già da novembre scorso chiaramente quindi molto prima rispetto a quando c'è stato eh il lockdown e poi la diffusione del virus ehm nel mondo ci sono state già ancora prima delle ehm diciamo delle infezioni da coronavirus che chiaramente noi non conoscevamo o meglio non conoscevamo SARS-CoV-2 conoscevamo i coronavirus e si parla nel mondo di eh riferimenti a infezioni delle via aeree da parte di un virus sconosciuto che chiaramente era il coronavirus ciao Federica benvenuta poi eh Maria Rita Gismondo in questo l'altro giorno un diciamo un grafico molto eh diciamo chiaro sulla numero di sul numero di decessi che ci sono stati quest'anno rispetto agli anni precedenti e chiaramente c'è un'impennata pazzesca con l'inizio della pandemia. È vero anche che eh per esempio in una puntata di Dipengiallo abbiamo detto che tante morti sono evitati per altre situazioni però in realtà il numero finale è molto alto molto alto perché sono stati tantissimi eh casi di suicidio dovuti al covid e eh al lockdown e alla pandemia gente che ha perso il lavoro gente che comunque è caduta in depressione durante eh il lockdown tanto è vero che dal da febbraio scorso la vendita dei degli antidepressivi degli antidepressivi è andata alle stelle e non accenna neanche a diminuire quindi questo è sicuramente un trend che bisogna tenere in considerazione e eh c'è stato anche un gran numero di persone che per paura del virus non si è recata per esempio in pronto soccorso e ci sono c'è stato un aumento del 30 per cento circa di casi di morti da ehm infarto appunto perché le persone avevano paura di andare in in ospedale per e quindi evitavano e quindi morivano sostanzialmente in casa senza ricevere nessun tipo di di aiuto chiaramente poi bevo un secondo ci sono parliamo di nomenclatura so che sembra noioso però è una precisazione che va fatta quando parliamo di covid stiamo parlando di una malattia quindi covid 19 è una malattia quando parliamo invece di SARS-CoV-2 stiamo parlando del virus quindi uno è il nome del virus e l'altro è la malattia che provoca e un po' per farvi un esempio come quando parliamo di HIV e di AIDS no? l'HIV è il nome del virus mentre AIDS è la malattia che scatena precisazione diciamo abbastanza banale ma che per esempio io non avevo colto appieno e quindi ve la riporto così magari anche voi se avevate un dubbio in questo senso lo avete lo avete dipanato parliamo quindi un po' del virus allora il virus sta provocando delle morti che sono numericamente molto sottostimate molto sottostimate perché chiaramente noi abbiamo notizia e abbiamo un dato su tutte quelle persone che si recano in ospedale che muoiono in ospedale o che comunque sono in grado di comunicare con il proprio medico ovviamente questi numeri andrebbero gonfiati forse amplificati raddoppiati per tutte le persone che non hanno accesso a cure mediche sto parlando chiaramente del mondo ma in realtà anche in Italia abbiamo molti casi del genere e quindi una cosa vorrei che fosse chiara per quelli che dicono che il covid non esiste per quelli che dicono che il covid è una semplice influenza sappiate che non è vero non è assolutamente vero soprattutto è un errore dire che ha un'influenza perché scusate ha molte più cose in comune per esempio con il virus che provoca nel raffreddore piuttosto che con l'influenza il fatto che uno dei sintomi primari sia la febbre non vuol dire assolutamente che le due malattie siano da accomunare il virus appunto è un virus quindi non è un batterio ho già fatto una puntata su differenze tra virus e batteri era una puntata molto rapida però secondo me molto chiara e cosa implica però questo? implica che i batteri sono in grado di sopravvivere all'esterno del corpo quindi non sono dei parassiti obbligati ma vivono praticamente su qualsiasi superficie mentre un virus al di fuori del corpo non è in grado di sopravvivere per più di quanto tempo vero mi chiede cosa cambia tra raffreddore e influenza molto banalmente sono due malattie diverse provocate da virus diverse nel senso che l'influenza possiede un suo virus che si chiama H-influenze in latino influenzae esistono vari tipi di H-influenze e in particolare abbiamo diciamo tre ceppi di influenza l'influenza A, B e C che hanno anche una certa ritmicità nel presentarsi quindi noi ogni anno sappiamo l'anno dopo più o meno o meglio non con certezza però siamo in grado di stimare quale ceppo di influenza arriva e quindi siamo in grado di fornire anche delle cure e dei vaccini in grado di attaccare il giusto ceppo di influenza mentre il raffreddore è provocato da una miriade di virus uno per esempio è il rinovirus ma anche appunto i coronavirus che noi conosciamo in realtà da da non da tanto cioè li conosciamo da quando è nata la SARS ma di questo poi parliamo chiaramente dopo quindi sono proprio due cose distinte sono provocate da virus diversi cosa stavo dicendo? che appunto è un virus che non è un batterio quindi fuori dal corpo non muore è un virus a RNA con envelope a polarità positiva questo non vi dirà niente giustamente però mi serve per farvi degli esempi un altro virus a RNA ad esempio è l'HIV con cui credo farò molti esempi rispetto a questo virus è un virus a RNA che è molto efficiente nel senso che possiede delle caratteristiche di infezione, di riproduzione e di produzione delle sue proteine che sono molto efficaci ed è per questo che è proprio diciamo il coronavirus che ha provocato, o meglio il SARS-CoV-2 che ha provocato la pandemia e non altri perché noi appunto i coronavirus già li conosciamo li conosciamo anche abbastanza bene in realtà perché li studiamo da una ventina d'anni o forse una quindicina d'anni però ci sono alcune differenze alcune caratteristiche che gli hanno permesso di essere lui diciamo il prescelto per diventare il responsabile della pandemia possiede alcune proteine di superficie che noi conosciamo e adesso molto rapidamente vi dico esistono delle proteine di superficie come la proteina M che attraversa la sua membrana e lo stabilizza e quindi gli permette di sopravvivere al di fuori del corpo umano per un certo periodo di tempo di questo poi parleremo più avanti una proteina E che è una proteina sempre strutturale se non sbaglio e la proteina Spike la proteina Spike perché ve la nomino? perché è fondamentale è la proteina che media l'attacco tra il virus e le cellule del nostro corpo quindi è anche il principale bersaglio che è stato preso da tutti gli studi scientifici che vanno a cercare un vaccino per il coronavirus quindi fondamentale la proteina Spike è fondamentale anche per capire come infetta il virus e dove va a fare i danni Martina poi ti rispondo perché sennò mi perdo troppo quindi la proteina Spike va ad interagire con alcune cellule del nostro corpo e come fa a sceglierle? le scegli in base all'affinità cioè non è che il virus per suo volere decide vado nei polmoni e faccio un danno lì il virus tramite questa proteina Spike è in grado di attaccare solo alcune cellule che hanno un particolare sistema di legame con un'altra proteina che adesso non voglio dire una vaccata ma mi sembra che si chiami ACE la proteina del nostro corpo ovviamente ci sono abbiamo cellule diverse nel nostro corpo e alcune di queste cellule hanno grandi quantità di questa proteina ACE e quindi sono in grado di permettere diciamo il legame del virus alla nostra cellula e questo spiega perché i danni legati alla presenza del del SARS-CoV-2 sono localizzati in alcuni tessuti e non in tutti ma anche di questo voglio diciamo approfondire dopo volevo farvi farvi una scusate bevo un secondo perché sennò ho già la bocca secca volevo farvi una un paragone con l'HIV perché con l'HIV perché l'HIV è sempre un virus a RNA ed è un virus che in realtà ci abbiamo messo molto tempo a distruggere nel senso che è un virus che ci ha raggiunto più o meno negli anni 80 è nato in un modo abbastanza anche simile nel senso arrivato dal virus delle scimmie che nelle scimmie chiaramente non è un patogeno è patogeno nell'uomo nel senso che provoca malattia sono nell'uomo in questo caso il SARS-CoV-2 arriva dai pipistrelli sul perché proprio dai pipistrelli anche qui dopo vi spiego però è sempre un virus a RNA però i virus a RNA che noi conosciamo bene e che sono tanti hanno un RNA molto piccolo nel senso che generalmente sono poche basi nucleotidiche nucleotidiche che vanno quindi a generare poche proteine il coronavirus anzi il SARS-CoV-2 è un virus infame da questo punto di vista perché ha un RNA molto grande rispetto agli altri di circa 30 kilobasi cosa ci interessa ci interessa o meglio perché ci interessa perché più è lungo questo RNA più questo virus è in grado di produrre di per sé delle proteine più proteine produce più funzioni avranno queste proteine più sarà diciamo difficile contrastarlo in un certo senso perché chiaramente per esempio come vi dicevo l'HIV produce poche in realtà proteine ha delle proteine anche lui di superficie che gli permettono l'attacco con le nostre cellule una se non sbaglio si chiama GP120 e quindi conoscendo queste poche proteine conoscendo il meccanismo con il quale infetta conoscendo il meccanismo con il quale crea la patologia noi siamo in grado di andare a mirare esattamente queste proteine e le loro funzioni e ad andare a disattivarlo quello che succede oggi con diciamo le cure per l'AIDS tant'è vero che esattamente come l'AIDS io credo il coronavirus ci accompagnerà per la durata della nostra vita nel senso che noi non si spera di sì però conoscendo il fatto che questo virus sia in grado di modificarsi e di mutare esattamente come l'HIV io credo che in futuro avremo delle cure che lo silenzieranno che lo renderanno non patogeno ma sostanzialmente il virus resterà con noi per sempre tendenzialmente a meno che non si riuscirà a raggiungere un'immunità di gregge ma di questo ne ho parlato già nella scorsa puntata quindi il fatto che abbia questo RNA molto grande è diciamo una complicazione i coronavirus in generale sono dei virus tutti RNA che abbiamo scoperto con la SARS in realtà quindi stiamo parlando del 2010 forse forse anche prima non vorrei dire una vaccata qualcuno cerchi su google e mi scriva nei commenti di coronavirus ne abbiamo vari generi solo alcuni sono in grado di infettare l'uomo perché sono dei virus in realtà che vanno a infettare principalmente gli animali in primis appunto il pipistrello quelli che infettano l'uomo sono il genere alfa e il genere beta abbiamo due alfa che sono in grado di creare patologie nell'uomo e quattro beta sono nati appunto con la SARS nel 2003 non nel 2010 quindi nel 2003 è la SARS meno male che i miei appunti mi vengono in salvo e SARS chiaramente sta per severe acute respiratory respiratory syndrome severe acute respiratory syndrome scusate alla mattina è difficile SARS-CoV-2 in realtà è molto simile è molto simile al primo virus della SARS con alcune differenze dopo la la nascita della SARS è arrivata la MERS che era sempre una sindrome respiratoria acuta anche lì non si è diffusa per le caratteristiche del virus non tanto perché siamo stati sfortunati con il SARS-CoV-2 quanto perché appunto questo virus non è in grado di infettare in maniera così o meglio è in grado di infettare ma per esempio provoca dei sintomi in modo molto precoce e quindi siamo in grado di riconoscere i sintomi quindi bloccare la persona infettata che quindi non può andare in giro a infettare tutti cosa diversa da quello che avviene con il SARS-CoV-2 che appunto dà dei sintomi a volte dopo due settimane a volte non li dà proprio e quindi questa persona è in grado di continuare ad andare in giro e andare a infettare altre persone un evento importante c'è stato credo intorno a marzo o una cosa del genere di una microbiologa italiana che con il suo team chiaramente nel suo laboratorio è riuscito è riuscita a sequenziare il virus che cosa vuol dire sequenziare il virus vuol dire riuscire a mettere in ordine tutti i tasselli del suo RNA questo in realtà potrebbe far pensare che si abbia la soluzione a tutto se sappiamo esattamente qual è il suo RNA quali sono le proteine che produce risulterebbe in realtà facile trovare una cura andiamo a mirare quello e il virus non è più in grado di funzionare in realtà non è così non è così perché questo codice genetico in realtà non viene utilizzato solo e solamente in questa maniera nel senso viene preso e tradotto in proteine ma viene anche ricombinato e modificato continuamente in modo da creare altre proteine che noi non possiamo stimare a priori dobbiamo vederle a posteriori quindi sequenziare sicuramente è una fase fondamentale per l'inizio degli studi scientifici non è però la soluzione a tutto e questo secondo me non si era molto capito inizialmente quindi a questo punto noi sappiamo quali basi creano l'RNA e con quale ordine si forma il genoma in realtà quindi non sappiamo in questo momento sì però un anno fa non sapevamo molto di quanto il virus facesse quindi tutti gli studi che poi ci sono stati nel 2020 sono stati tantissimi perché chiaramente c'è stata una corsa anche a adesso chi prenderà la gloria per aver trovato la soluzione al coronavirus e benvenga nel senso e quindi molte cose le abbiamo scoperte durante quest'anno abbiamo detto i coronavirus sono sette sono praticamente gli stessi del raffreddore comune che se non sbaglio fa parte della categoria alfa e e non quello dell'influenza questa cosa sì ve l'avevo già detta sono derivati dagli animali questo è un punto importante è un punto importante perché sapere da dove provengono questi virus ci aiuta un po' a capire appunto c'è stata la questione no è stato creato in laboratorio non è stato creato in laboratorio allora non non lo sapremo mai nel senso che in questo momento anche se qualcuno avesse delle prove della creazione del SARS-CoV-2 in laboratorio e che questo sia stato diffuso in maniera in maniera diciamo di volontà e non in maniera casuale in questo momento secondo me non vi crederebbe nessuno nel senso che pur avendo delle prove si può sempre dire che le prove sono false si può sempre smentire quindi nel senso questo discorso è un po' fino a se stesso sapere se è stato prodotto in laboratorio o meno non ci interessa è possibile che sia stato prodotto in laboratorio? sì è possibile i virus si possono generare in laboratorio combinare tra di loro creare nuovi virus tant'è vero che anche il vaccino per esempio americano è un AGM nel senso che è un organismo geneticamente modificato è proprio un virus modificato e anche per questo non so se in Italia arriverà mai quel vaccino perché temo che sia appunto illegale a causa delle nostre leggi non sono assolutamente sicuro di questo quindi andate a andate a verificare però fatto sta che non è che ci interessa molto nel senso che una volta che sappiamo che questo tipo di virus è presente in alcuni animali noi possiamo comunque isolarlo e studiarlo soprattutto è inutile che ci perdiamo in discussioni del genere sappiamo però che è un virus che è nato dai pipistrelli il perché dei pipistrelli o meglio facciamo un discorso in generale perché sono sempre i volatili a portare queste nuove malattie specialmente i virus perché sia la SARS la viaria quindi tutto questo genere di malattie che poi hanno anche un grande richiamo a livello mediatico sono tutte derivate dai volatili faccio un piccolo escursus i volatili spero che abbiate seguito le vecchie puntate di pencienza perché sono abbastanza propedeutiche a questa i volatili devono essere in grado di volare diciamo la meccanica del volo è una meccanica molto complessa a livello metabolico quindi consuma un sacco di energia questa energia produce un sacco di metaboliti degli enzimi e le sostanze che vengono utilizzate per produrre questa energia vengono poi convertite in metaboliti no non sono fatti tutti così i vaccini dopo ti spiego non so se abbiamo tempo adesso o faccio un'altra puntata o vi dico proprio in due minuti alla fine cerco di andare un po' più veloce dai allora vi dicevo i volatili consumano un sacco di energia perché devono volare quindi questi metaboliti spesso sono tossici questi metaboliti tossici vanno ad attivare alcuni recettori sulle nostre cellule che sono dei recettori detti prr che sono detti pattern recognition receptors che appunto sono in grado di scatenare in risposta ad alcuni di questi metaboliti l'infiammazione l'infiammazione che poi porterà all'attivazione del sistema immunitario in alcuni casi i volatili hanno meno pattern recognition receptors sulle loro cellule perché altrimenti questo andrebbe a inficiare sulla loro capacità di volo e quindi i volatili sono diciamo naturalmente predisposti a subire queste infezioni perché avranno un sistema immunitario più predisposto rispetto al nostro alla tolleranza piuttosto che all'attacco quindi non è che sia magia nera questa cosa che i coronavirus o gli altri virus si generino principalmente nei volatili c'è una risposta scientifica a questa cosa quindi smettiamola di dire cazzate fondamentalmente per questo che ve lo sto dicendo quindi il SARS sì SARS giravano già 15 anni quindi circa 15 anni fa l'abbiamo detto all'inizio circa 15 anni fa però chiaramente ci vuole tempo perché questi si diffondano e soprattutto ci vuole tempo perché questi mutino in realtà il SARS non è un virus che muta tantissimo mentre il COVID è anzi il SARS-CoV-2 è un virus che purtroppo muta il fatto che muti porta a una serie di conseguenze io non voglio scoraggiarvi con questa affermazione ma le mutazioni del virus che già sono avvenute hanno provocato una totale sostituzione del virus iniziale quindi l'infezione che noi abbiamo al momento non è la stessa che avevamo a febbraio quindi se noi avessimo sviluppato o avessimo avuto in precedenza per esempio un vaccino piuttosto che una cura a quel virus non è detto che sarebbe funzionata oggi per il virus che abbiamo attualmente perché vi dico questa cosa? non per scatenarvi il panico ma per dirvi che è necessario che vi rendiate conto che il COVID-19 non è una questione temporanea non è una questione che arrivare al vaccino poi torneremo tutti al mare a mostrarle chi ha pechiare il COVID-19 o troviamo il modo di silenziarlo o troviamo il modo di impedire che questo virus si riproduca oppure dovremo conviverci come sostanzialmente abbiamo convissuto con l'HIV piccolo problema HIV non si trasmette per via aerea in realtà c'è stato un caso di cui magari parlerò in una puntata a parte di una studentessa che appunto stava facendo dei studi sull'HIV su un particolare ceppo di HIV modificato che si è trasmesso per via aerea però diciamo che in generale l'HIV si trasmette con i liquidi principalmente tramite l'attività sessuale non protetta il coronavirus no basta un colpo di tosse e quindi nel senso piano con con gli attacchi al governo perché non è il governo che sicuramente può fare la magia e riportarci tutti a fare il Natale tutti insieme allora bevo un secondo e ci sono sì niente qua mi ero messo una piccola nota per dirvi che è vero che lo stiamo studiando da 15 anni però in letteratura si parla già di coronavirus da 800 anni fa quindi non è un virus completamente nuovo allora perché si è sviluppata ora la pandemia per svariati motivi alcuni molto banali la globalizzazione quindi anche la capacità di fare più viaggi chiaramente negli anni 80 prendere un aereo non era così facile come adesso non tutti prendevano l'aereo anche per fare spostamenti di lavoro quotidiani magari ovviamente la capacità di muoversi superiore ha favorito l'espansione del virus che però ricordiamo era già presente in Italia quindi anche tutta la questione all'inizio c'è stata un po' la caccia al cinese no? totalmente idiota perché noi conoscevamo già il coronavirus c'erano già casi di coronavirus il fatto che noi non gli avessimo dato un nome non vuol dire che non esistesse no? quindi facciamo sempre attenzione di cosa fa la televisione di cosa fanno i giornali cerchiamo di pensare sempre con la nostra testa chiaramente dico questo in senso proprio apolitico no? cerchiamo di fare un passo indietro quando la pancia ci dice di insultare qualcun altro perché ci ha portato il covid aspettiamo un attimo poi l'inquinamento l'inquinamento è un altro fattore importante perché si è dimostrato che alcuni pm alcuni particolati sono in grado di trasportare il virus e quindi fungere da vettori e più andiamo avanti più l'aria è inquinata più sarà facile che il virus si diffonda sto guardando in questi giorni che mi stanno spuntando le pubblicità su google come targhettizza bene google nessuno al mondo dei purificatori d'aria servono? sì sì perché è stato dimostrato scientificamente che il particolato e la sporcizia nell'aria può fungere da vettore del virus quindi se dovete fare una spesa magari tech magari un po' nerd perché non farla in qualcosa che può essere utile anche in generale per la vostra salute piuttosto che comprare un'altra cagata quindi io sinceramente ve lo consiglio l'aumento di popolazione banale più persone siamo più è facile che il virus vada in giro ce ne sono molti altri in realtà in questa puntata volevo fare un discorso sulle mascherine sui presidi di sicurezza non so se avrò tempo speriamo di sì parliamo un po' della stabilità del virus stabilità del virus quindi quanto rimane al di fuori del corpo risposta breve poco non è un batterio come vi dicevo andate ad ascoltarvi la puntata per capire cosa significa i virus non hanno le strutture metaboliche per sopravvivere al di fuori del corpo sono dei parassiti obbligati quindi perché all'inizio c'è stato tutto il macello della gente che spruzzava la spesa prima di metterla in casa la teneva in quarantena quattro giorni ha senso questa cosa soprattutto a mio parere no a mio parere no perché questo virus è vero che è stato isolato sulle superfici il fatto che sia stato isolato sulle superfici non vuol dire che questo permetta l'infezione per farvi capire il virus perde la sua capacità di infettare dopo pochissimo tempo nel giro di un paio d'ore massimo poi chiaramente dipende da situazioni ambientali c'è il sole ci sono 40 gradi c'è umidità non c'è umidità ci sono una miriade di fattori quindi darvi anche un orario forse è sbagliato però possiamo dire che nel giro di poche ore una manciata di ore il virus quasi sicuramente sarà inefficace però è stato dimostrato che si è trovato per esempio sulla plastica che è una delle superfici su cui il virus possiamo dire che sopravvive sto facendo delle virgolette all'aria di più anche dopo 72 ore quindi vuol dire che devo tenere la spesa 72 ore in giardino prima di entrare in casa a mio parere no a mio parere no perché il fatto che il virus venga isolato e quindi che venga trovato diciamo una parte del codice genetico su una superficie non vuol dire che il virus sia vivo anche se dire vivo è un'inesattezza dato che il virus non sono esseri viventi però comunque non è in grado di infettare e per farvi un esempio è come trovare non so invento eh come arrivare sulla scena di un delitto e trovare il cadavere dell'assassino no è chiaro che il cadavere è lì però l'assassino non può più farmi del male no allo stesso modo il virus se le proteine di superficie sono intaccate e per modificare il legame che hanno queste proteine di superficie con le nostre cellule ci vuole veramente poco ci vuole basta anche per esempio una variazione di temperatura una variazione di umidità se non c'è un attacco efficace il virus non può infettare quindi è vero che troviamo l'RNA sulle superfici non è vero che questo può sempre infettare quindi non vi dico chiaramente di non usare i guanti di non usare l'alcol di non disinfettarvi di toccarvi il viso 300 volte al giorno però vi sto dicendo di a mio parere sempre che non sono nessuno di non avere il panico nel senso manteniamo le distanze quando andiamo a fare la spesa stiamo attenti indossiamo i guanti una spruzzatina di disinfettante non fa mai male però non sfociamo nella pazzia ecco allora parliamo un po' abbiamo 8 minuti spero di fare in tempo parliamo un po' di quali cellule infetta allora il virus lo sappiamo tutti si trasmette tramite il contatto con le nostre mucose delle alte vie respiratorie per esempio e si riproduce in cellule epiteliali endotelio che sono le cellule interne dei nostri vasi sanguigni che in realtà fanno parte sempre dell'epitelio gli enterociti quindi le cellule del nostro intestino e in particolare le cellule delle alte e delle basse vie respiratorie perché provocano una crisi respiratoria dei danni respiratori perché due motivi motivo uno anzi uno è la conseguenza dell'altro motivo uno è che attaccano principalmente i pneumociti di tipo 2 pneumociti di tipo 2 che possiedono appunto tanti di quei recettori di cui parlavo prima e quindi sono in grado di far legare sostanzialmente questo virus i pneumociti di tipo 2 sono fondamentali per i polmoni nel senso che producono il surfactante che è una sostanza tensioattiva che serve sostanzialmente per farla breve all'espansione degli alveoli senza questa sostanza l'espansione degli alveoli non è efficace ed efficiente quindi se non c'è l'espansione dell'alveolo si avranno delle riduzioni dei scambi gassosi tra il nostro sangue e l'aria e viceversa chiaramente e oltretutto il virus è in grado di avere una capacità tossica citotossica su queste cellule che quindi vanno incontro ad apoptosi e muoiono questo vuol dire che si generano delle lesioni in alcuni casi anche ampli a livello polmonare che molto spesso poi permangono nel tempo questo tipo di danno chiaramente avviene su tutte diciamo le cellule principalmente sui biomociti di tipo 2 abbiamo detto ma su tutte le cellule che vengono infettate quindi perché vi dico questo anche qui non è per mettervi il panico ma è per dirvi che tutti quelli che prendono la leggera l'infezione da covid stanno sbagliando per vari motivi primo perché il covid si può riprendere l'hanno dimostrato in più e più casi e questo è uno dei principali ostacoli che abbiamo anche alla formazione e alla genesi di un vaccino e non sappiamo oltretutto quale ceppo prenderai perché abbiamo detto che sta mutando il virus che abbiamo preso a febbraio ribadisco non è lo stesso virus che stiamo prendendo adesso sappiamo quali sono le conseguenze di queste mutazioni no le sapremo a posteriori e è inutile che noi facciamo dei progetti che facciamo ci mettiamo giù diciamo ma sì tanto sarà così non lo sappiamo chi lo dice e chi dà una data per il vaccino chi dà una cura precisa per il covid in questo momento o sta mentendo o sta dando una sua opinione validità scientifica in entrambi i casi è zero quindi vi faccio questo pippone per dirvi state attenti cercate di non prenderlo è vero che i giovani non muoiono ma è anche vero che tutti quelli che dicono ma sì è un'influenza sbagliano scusate questo è il mio cane che ha deciso di morire in live così quando vi dico che sto svegli tutta la notte capite quindi abbiamo cinque minuti cinque minuti vi voglio parlare di una cosa importante questa cosa della mutazione questa cosa della mutazione è fondamentale è fondamentale perché all'incirca a febbraio dopo l'inizio della pandemia il virus è mutato cosa vuol dire che è mutato vuol dire che ha accumulato delle mutazioni puntiformi quindi delle modificazioni sul suo RNA puntiformi vuol dire molto piccole diciamolo un po' alla buona questa mutazione in particolare siamo stati molto 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 sfortunati perché è avvenuta proprio sulla parte del suo codice genetico che diciamo implica una modificazione della sua proteina di superficie che permette l'attacco alle nostre cellule non sappiamo se ci sono state o meglio sappiamo se ci sono state altre mutazioni non sappiamo se ce ne saranno altre e quali conseguenze avranno quindi questa mutazione ha fatto sì che questa proteina di superficie che ha più o meno nella forma di un cono ha permesso una modificazione strutturale di questo cono che ne aumenta l'ampiezza e ne permette un'apertura maggiore apertura maggiore che ha permesso di avere una maggiore affinità con la nostra proteina della cellula questo cosa vuol dire che il nuovo virus siamo partiti dal D614 SARS-CoV-2 che era il virus iniziale è stato ad oggi totalmente sostituito dal D614 SARS-CoV-2 e questo D è un virus che è molto più in grado con molta più affinità di attaccare le nostre cellule quindi vi dico questo appunto per tutto il discorso che vi ho fatto prima non sappiamo cosa succederà non sappiamo se una nuova mutazione andrà ad impedire il legame del virus molto difficile nel senso che per la selezione naturale chiaramente è più facile che avvenga qualcosa che selezioni in modo positivo una specie piuttosto che in modo negativo perché in modo negativo chiaramente il virus muore e non si trasmette il suo amico collega di fianco che invece ha avuto un vantaggio sull'evoluzione sarà quello che andrà avanti allora vi dico questo anche perché per rendervi più chiaro la questione sull'immunità di gregge se noi oggi avessimo anche un vaccino contro che magari va a colpire esattamente questa proteina spike e lo avessimo avuto a febbraio quel vaccino probabilmente oggi non sarebbe funzionato o meglio probabilmente non lo sappiamo può essere che quel vaccino oggi non avrebbe funzionato e quindi l'immunità di gregge ogni volta che la sentite sappiate che chi ne sta parlando se non ne sta parlando in questo senso che non sa che cos'è non sa che cos'è non conosce il virus non sa che il virus muta e non sa che ci sono tutta una serie di conseguenze oddio ho un altro mare di cose da dire manca un minuto e mezzo che cosa vi voglio dire manca un minuto e mezzo quindi vi faccio i saluti vi ringrazio per avermi ascoltato io in realtà non ho terminato la puntata quindi probabilmente ce ne sarà un'altra magari possiamo parlare fatemi domande sul gruppo in modo che io possa informarmi e poi darvi delle risposte nella prossima puntata magari parleremo di mascherine magari parleremo di visiera magari parleremo di alcol e disinfezione e quindi ditemi ditemi un po' voi e fatemi delle domande intanto leggo se mi avete lasciato le domande a cui posso rispondere rapidamente il 5G fa venire il covid venuto no te lo dico subito non hanno niente a che fare l'uno con l'altro la questione su come fanno i tamponi qua Martina forse intendevi sulla questione tampone nasofaringio orale sì me lo sono un po' studiato però non ho tempo di spiegartelo magari lo vediamo nella prossima puntata così magari parliamo anche dei vaccini della differenza dei tamponi perché c'è un bel po' di cose da dire raffreddore influenza avvenuti ho risposto i virus a rna non sono piuttosto rispetto ai virus a dna Martina mancano 10 secondi in realtà no ci sono alcune differenze ma non è correttissimo dirlo poi magari ne parliamo più avanti mancano 5 secondi vi saluto ragazzi condividete la puntata è importante e vi voglio bene grazie